benvenuti buon pomeriggio buonasera buongiorno insomma quando vedete ovviamente questo video a seconda dei vostri orari sarà quello più opportuno innanzitutto importante che vi dico come piccola parentesi che a livello logistico dalla prossima settimana torneranno quelli che sono i video con montaggio che processiamo mettiamo nel programma facciamo scorrere le immagini mettiamo gli effetti sottofondo dei vocali miei di cataculi eccetera purtroppo in questi mesi ultimi mesi i problemi logistici anche a livello di studio non siamo riusciti come posso dire appare quello che facevamo di consueto no i nostri video che fossero teoria o approfondimento ma comunque avevano tutto si partiva dalla sceneggiatura del video la stesura poi si facevano le vocali poi si sceglieva l'effetto giusto si assemblava poi si portava in un bordello adesso facciamo questo video rimetto gli occhiali però perché così vedo meglio quando faccio l'esplicazione della situazione questo video che verterà sul rufi verterà sul rufi ma sarà un video come dicono alcuni spoiler free nel senso che io non parlerò del 1044 voi sapete no perché questa è la stesura di questo video scritta nella mia categoria di spoiler non li legge quindi il video non contiene spoiler bensì si ferma ai fatti fino a 1043 la settimana scorsa questa registrazione sarebbe dovuta avvenire la settimana scorsa ma appunto non sono riuscito e vado adesso cercherò di essere tra virgolette riassuntivo ma non troppo veloce perché se divento veloce quando leggo il commento non si capisce niente e vi perdete diciamo i fattori fondanti del video e soprattutto le tematiche più importanti perché io adesso farò quello che dovrebbero fare anche altri ma che non fanno ma che io faccio io vi porto attraverso il ragionamento d'insieme attraverso quelle che sono tutte le sequenzialità delle informazioni che c'è stato nel manga a dire perché questa cosa è successa e perché no e quindi perché il frutto di cui parlavano i corosei è quello di rufi e non è altro non è quello di kid non è quello di l'oro non è quello di tamara non è quello di kaido non è monosughe non è zunescia che ha mangiato un frutto diventando un elefante in realtà è un uomo gigante tutte queste cose qua no e adesso andiamo a vedere perché secondo noi era così e non era così vado metto gli occhiali non ci vedo ci vedo ci vedrò voi cercate di seguirmi con attenzione mi racconda e poi l'importante c'è sempre un ringraziamento poi dopo vi vi faccio dei social ma sempre un ringraziamento fatto a tutti coloro che ci supportano sugli youtube e su twitch facendo le sub no qui anche con amazon prime da una parte ma anche pagamento su twitch su youtube invece già siete una squadra fortissima e tutti voi avete il diritto di entrare nel gruppo telegram privato solo dei sub non c'è più nessuno lì dentro solo voi e yoga altrimenti non potrete entrare allora nell'ultimo capitolo importante 1043 c'è allora il capitolo è stato un capitolo bellissimo capitolo pazzesco ma è stato un percorso no che noi vi abbiamo descritto man mano con il passare settimane dei mesi e quindi ammettiamo che arrivare lì a quando il fatto che il ritorno di joy boy è stata una cosa molto bella per noi ma anche per voi adesso quindi cercherò di spiegarmi bene mettetevi comodi state tranquilli e vediamo un pochettino facendo un passo alla volta torniamo un attimo indietro perché noi vi parlavamo allora nel 1037 uscirono tantissime teorie no poc'anzi ve lo dicevo qual è il frutto quale non è il frutto questo e quello e quell'altro noi vi dicevamo che era l'opzione più bella quella su cui avremmo scommesso quella su cui io dissi simpaticamente mi sarei giocato un caffè quella di rufi e del suo frutto quindi ovviamente merito a quel discorso noi non è che lo diciamo è basta come fanno alcuni che sparano a caso senza dare un'informazione noi vi dimmo tutto quello che fu il costrutto per arrivare a quella risposta infatti un attimo solo infatti cosa è successo è successo che nel capitolo 1037 è stato un processo a livello di sceneggiatura un processo a livello di sequenzialità che ci ha portato alla verità noi vi dicevamo che la possibilità che fosse frutto di rufi era fondamentale perché il gamo gammonomia era un frutto abbastanza sospetto il frutto di cui parlavano gli assi di saggezza in merito a ciò vi portavamo a varie situazioni no andranno ancora più a ritrosa andiamo nel capitolo 117 e 1018 lì dove c'erano importanti informazioni che poi a un certo punto si interruppero da oda momentaneamente come vero furbo ma che poi sono state riprese infatti wu su wu nello scontro sto piroppo nello scontro così invece invece innanzitutto che lui è un ex agente della cp9 che 12 anni prima stava trasportando stava trasportando la nave governativa della marina come preferito il frutto gammonomia fallì fallì nella missione e fu imprigionato fu arrestato perché perché qualcuno rubò tale frutto e noi scoprì che quel qualcuno era shanks il rosso questo fallimento di wu su wu era così importante appunto da far imprigionare tale eh agente governativo e far sì che poi dopo diciamo avete visto no che la cp0 voleva eliminare appunto wu su wu li adonikashima poi sappiamo che il frutto è stato preso da shanks proprio fisicamente sappiamo che è stato l'ukiro poi vedremo un pochettino perché poi con erette con oda può anche modificare e poi accidentalmente wu fi lo ingerì quindi molti ci hanno chiesto shanks è collegato molti hanno fatto questa domanda ci hanno posto questa eh informazione e noi gli rispondiamo secondo noi sì perché non solo il valore intrinseco e strinseco del frutto ma anche un qualcosa di simbolico quindi non per forza per quanto concerne solo ed esclusivamente il simbolismo che poteva avere ma anche il potere shanks in qualche modo ha spianato la strada al ritorno di joy boy quindi qui si apre lo scenario della predestinazione anche in un qualche modo differente no perché già fortemente presente il rufino per la d per il destino per il dream per tantissime cose che la predestinazione si è fatta avanti c'è stata la volontaria di tata c'è stato il cappello di paglia che gli è stato dato e adesso ci aggiungiamo adesso anche il frutto il frutto che è fondamentale e che comunque eh diciamo non è più un caso l'importante è che sempre uswu quindi appunto non ci parla eh solamente del frutto che stava per essere escortato e rubato ma ci ha detto altro no cosa è successo è successo che lui quando stato in prigione ha sentito la storia del god san un uomo che con il sorriso liberava i popoli e portava diciamo la felicità quindi liberava la schiavitù eccetera c'è quel c'è quel simbolo no il dio del sole fatto così sembrava quasi un uomo eh fatto di gomma in questo senso qua quindi questo discorso del frutto che viene considerato una leggenna anche dagli esseri di saggezza i quali governatori del mondo della marina del governo precedentemente agli astri attuali avevano modificato il nome non si svegliava da secoli e che quindi fa paura a tutti compresi in esame appunto e lì poi nasce un'altra situazione simpatica del fatto che queste varie infono possono eh essere sommate ed arrivare alla risposta la cosa che scienzi rubi il frutto il fatto che quest'ultimo vada tra virgolette venga il frutto venga ascoltato dal governo marina il fatto che scienzi si andrà a parlare con i corosi prima di un certo pirata tutto non susseguisse l'informazione fino ad arrivare al fatto che gli astri prima parlavano di Nico Robin che è un altro discorso che doveva essere la vita e poi speravano che in una guerra così cruenta tra Kaido e Biga appunto morisse in un qualche modo qualcuno di fastidioso parlava di Mugiwara di Rufi di una luce da spegnere come dice sempre Im-sama poi arriviamo al dunque quindi ricordatevi che Im-sama tra i vari manifesti di Tichi, Shiraoshi, di Rebecca c'era quello di Rufi andò anche sull'area o andò lei o lui Im-sama sulla reliquia la reliquia quel cappello gigante la tomba quello che volete lì a Marigioa c'è quel cappello gigante la taglia di Rufi quindi sono diversi punti che si uniscono no? è vero che Rufi è sempre stato conosciuto però il problema potrebbe essere collegato appunto al risveglio e questo è quello che noi vi stiamo dicendo da tantissimo tempo siamo arrivati poi al dunque quando capiamo che i Gorosei chiedono l'eliminazione immediata di Monche di Rufi penso che lì signori le prove diventano quasi schiaccianti cioè stiamo facendo la guerra perché eliminare meramente Monche di Rufi? appunto perché il pericolo, stavano parlando poco anzi, del risveglio ha perso Bigma, poi perde Kaido Rufi oltre a diventare Gebo, oltre a risvegliare Frutti diventa l'uomo più vicino ad essere il re dei pirati quindi capiamo che appunto la loro paura verte sul risveglio di Rufi ovviamente il capitolo poi ci ha dato altre informazioni importanti il numero incredibile di Rufi che dà Kaido il fatto che Kaido parla della gomma che prende strane di iniezione dice ma la gomma non potrebbe fare questo lo disse anche Do Flamingo cioè gli indizi sui frutto di Rufi sono nati già da un po' di tempo da quando abbiamo visto i ghiaffotti e continuano ad arrivare e vi abbiamo anche detto che l'intervento della gente da CP0 in quello scontro per fermare Rufi per fargli subire l'attacco di Kaido avrebbe fatto sì che potesse, come posso dire, innescare e questa è la parola giusta una cosa contraria a quella che lui voleva lui voleva far morire Rufi e invece ha fatto sì che Rufi si risvegliasse con il suo frutto è importante poi che nel capitolo c'è questo dialogo fra Zuniscia Zuniscia o Zunescia fra lui e Mamonosuke il ritorno dei tamburi della liberazione il ritorno di Gebo era da 800 anni che non lo sentiva metaforicamente noi abbiamo detto una cosa importante anche il cuore di Rufi che ritorna a battere questi battiti differenti che si contrappongono alla morte viene contattata dalla vita lo schiavismo di Kaido, la tirannia che si contrappone alla libertà Gebo e Storri se vita e libertà è l'uomo che si farà carico del peso del mondo disse Newgate è l'uomo che si farà carico del peso della storia l'uomo che festeggerà la liberazione del mondo dalla tirannia degli imperatori ma anche del governo e in qualche modo anche della marina il concetto di morte e non morte reincarnazione, predestinazione notiamo in Rufi quelle vignette Rufi K.O. indica il silenzio come se fosse morto in quel momento si fosse fermato quel balun quei segni all'interno delle tavole come avveniva con Corazono quando avviene con l'O con la R.Rum ovviamente potrebbe anche essere diventato così debole diventare impercettibile per poi ripartire all'impazzata è importante il sorriso questo ve l'ho già detto katakana e ragana come il sorriso che va a simboleggiare che significa anche Nika e questo viene fatto come effetto sonoro o viene fatto come non era il proprio concludiamo quindi dicendo che c'è una diciamo una divisione forte una dicotomia che bisogna fare Rufi e Joy Boy la risposta è sì Rufi e Joy Boy e anche Nika in un qualche modo ma è sempre Rufi sarò da dire ma è così non andiamo attraverso dei binari mentali diversi da questo Rufi per un attimo ma poteva essere andato via per un millesimo di secondo ma è ritornato come Joy Boy ma questa è una cosa metaforica per risvegliare se stesso il suo frutto non si può accettare che Rufi diventi un recipiente dello spirito di Joy Boy di Nika Rufi non è Yu-Gi-Oh Rufi è Rufi quindi non ci incamminiamo in un vicolo cieco che potrebbe portare a una risposta sbagliata Rufi non è il recipiente di nessuno Rufi è colui che porta avanti la volontà è colui che deve compiere il destino che nemmeno Joy Boy era riuscito a compiere la promessa a Shiraoshi la liberazione cioè Poseidon e così via quindi è importante un pochettino potremmo vederla come erano Naruto e Sasuke che sono Indri e Ashura ma che non lo sono realmente cioè lo sono per discendenza per l'incarnazione ma rimangono Naruto e Sasuke non è che vengono impossessati in qualche modo ovviamente quindi noi si parla di diventare Joy Boy non di nascere lo si diventa e quindi è ciò che diciamo che viene fatto vedere è un qualcosa che si raggiunge attraverso le gesta attraverso la volontà attraverso le determinazioni ovviamente tutto quello che vi sto dicendo è una cosa che è partita da praticamente 40 capitoli a oggi e li stiamo portando avanti perché Rufi avrebbe coscienza di sé del passato se fosse anche Joy Boy perdendo e confondendo il sé del presente ma Rufi non può essere altro che il sé che tutti ne conosciamo quello che è presente quindi capiamo bene che oltre ai virati si sta andando si sta andando in qualcosa che trascende lo spazio e il tempo una qualche cosa di divinità un misticismo abbiamo parlato anche di Nika in generale per riportarvi delle informazioni lo facciamo le 17-18 ve le voglio dire proprio giuste giuste velocissimamente tipo il fatto che Nika in un qualche modo in un qualche modo questa divinità che viene detta l'abbiamo fatta nel 17-18 la ve le ridico giusto per dirvele poi dopo ovviamente se nei prossimi capitoli più avanti verrà ripreso noi ne riparleremo il Dio del Sole nella mitologia Elio tramite il suo carro tra virgolette a livello solare per sorgere il sole l'attribuzione anche nella fattispecie mitologica greca romana Apollo c'era anche la divinità Mitra c'era in Egitto il Dio del Sole ci sono delle culture precolombiane gli Aztechi gli Inca i Maya che raffigurano questi personaggi con il sole anche nelle varie religioni come quella ebraica e cristiana il sole l'arrivo del predestinato del messia c'è una contrapposizione fondamentale di simbolismo però fortissimo luce e oscurità giorno e notte luna e sole Yin e Yang ovviamente Rufi è il sole Rufi è l'alba Rufi è l'uomo che riporta Terra l'alba lo diceva Toki lo diceva Oden lo stavano aspettando tutti anche a Wano Kuni quindi risveglio del frutto e dei suoi possibili effetti non ne parliamo perché comunque aspettiamoli aspettiamoli nei prossimi capi ma noi vi invitiamo sempre a rivedere i nostri video precedenti perché noi ne parlammo tre anni fa nel video che io chiamai in titolare Retro Gear e poi un anno e mezzo fa sul video Rufi ispirata dal potenziale limitato più forte degli imperatori e lì vi parlammo del fatto che lui potesse intercambiare gear potesse intercambiare gear forte le varie forme il fatto che si potesse riprendere il fatto che potesse agire quasi come una sorta di Zoan cioè sembra simpatica sta cosa ma noi vi dicevamo tantissime cose che secondo me sono fondanti per il costrutto del personaggio di Rufi e per il fatto che veramente ha un potere fantastico quindi noi speriamo che il potere sia qualcosa di spettacolare qualcosa che ci lascia bocca aperta qualcosa che vada in un qualche modo a inalzare One Piece in modo totale e finale perché è successo con tutti i protagonisti tutti i protagonisti dei manga da questo punto di vista diventano qualcosa di più superano i loro limiti superano la verità superano tutto e quindi io mi aspetto il risveglio mi aspetto il gear 5 o 5 perché ci deve essere ve lo raccontare le marce dell'auto addirittura io vi misi pure il retro gear la retromarcia non penso che l'auto lo farà però insomma risveglio gear 5 qualcosa di spettacolare non voglio sapere che cos'è non voglio sapere come può essere perché ne abbiamo fatti i video ve lo devi dire ora però io vi volevo far capire che tutto quello che noi siamo arrivati a dirvi quindi che quello fosse il frutto che lo fieggio e voi fatto di nica liberare risvegliare sono tutte conseguenze di un discorso che viene costruito nelle settimane nei mesi ma che comunque va ad essere rintracciato attraverso le prove che voi e noi abbiamo nel manga nulla si crea nulla si distrugge tutto si trasforma quindi io mi pongo la stessa domanda che si poneva il sindaco di Foscia e ve la pongo a voi ditemelo nei commenti con l'hashtag Rufi e Gioeboi però venite a scrivere anche questo ma secondo voi è il suo sogno o è il suo destino perché lì è lì signori miei che casca l'asino il suo sogno o il suo destino fatemelo sapere qui nei commenti mettete l'hashtag Rufi e Gioeboi e poi passate a tutti i nostri social Facebook Instagram Youtube Telegram eccetera 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 vi aspetto vi aspetto io e vi aspetto Radaguli un bacio ciao ragazzi solo la verità sempre grazie a tutti grazie a tutti